qui siamo a 2005 di altezza e oggi ho deciso pescare a spinning sono già andato in due laghi quest'anno non ho pubblicato i filmati perché preso tanti pesci piccoli non mi sono neanche divertito quindi oggi ho detto basta vengo spinning se ne prendo ne prendo due belli questo è un lago dove ci sono dei bei salmerini l'anno scorso ne avevo presi tanti vediamo un po come potete vedere in questo lago ci sono migliaia di questi pesci che sono il pasto dei salmerini delle idee belle che ci sono qua per quello proprio pescare spinning perché li vedi proprio che vengono arriva a cercare sti pesci i salmerini più belli che verrà città si pesci mangiano la clip inizio pescando con un rapalino affondante un minno da 8 grammi affondante qua l'acqua va giù quasi 8 metri soprattutto nel centro un rapala no argentato guarda 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 è andato con la bocca aperta robetta il big penuto dietro ho visto però sa stato mezzo chilo abbondante era lì eccolo eccolo incazzoso oh sì forse si oh guarda che grosso guarda il big guarda il big mamma che bello guarda se luccica la telecamera cosa guarda la telecamera madonna che vigone meraviglia 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 che bello salmerino alpino questo qui sarà più di mezzo chilo bello 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 che magnifico guarda quella letta arrapala bello 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 si ti lascio andare adesso eh sarà ma che coda c'ha 35 bellissimo da un po' che non prendiamo un pace così bello in montagna Fiddle da una scorsa è era una scorsa sì dalle della scorsa iscribile da una scorsa Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti 20-40 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti